Numero 5. Pampers Premium Protection New Baby è sinonimo di comfort e sicurezza. La taglia 1 è perfetta per i neonati di peso tra 2 e 5 kg. Le chiusure e bande elastiche garantiscono una vestibilità ottimale, mentre l'indicatore di umidità segnala quando è il momento di cambiare il pannolino. Disponibili in due confezioni da 48 pannolini ciascuna, sono una scelta ideale, anche se si consiglia di testarli prima di fare grosse scorte. Se ti interessa questo prodotto o vuoi sapere il suo prezzo, clicca il link in descrizione. Numero 4. I Pampers Naturello Taglia 4 sono pannolini monouso che si distinguono per i loro materiali di origine naturale. Sono realizzati in cotone e fitoderivati, il che li rende delicati sulla pelle del bambino. Un punto a favore è l'assenza di profumazioni, ideale per chi ha bambini con pelle sensibile. Sono stati dermatologicamente testati per garantire la massima sicurezza. Tuttavia, non sono biodegradabili, un aspetto che potrebbe non piacere a chi cerca soluzioni ecologiche. Adatti a bambini con un peso compreso tra 7 e 18 kg. Trovi il link di questo prodotto in basso nella descrizione. Numero 3. Pampers Progressi Mini Taglia 2 è l'ideale per i neonati dai 3 ai 6 kg. Questo pacco include 120 pannolini monouso che garantiscono il massimo comfort grazie allo strato filtrante ad alta efficienza e all'indicatore di bagnato. Perfetti per i primi mesi di vita, sono studiati appositamente per pelli delicate. Perfetti per i genitori attenti al benessere dei loro piccoli. Acquista questo prodotto con il link che trovi in descrizione. Numero 2. I Pampers Baby Dry Maxi Taglia 4 sono una soluzione eccellente per i bambini tra 7 e 18 kg. Con un totale di 208 pannolini, questo prodotto garantisce un'alta traspirabilità e un comfort ottimale grazie alle bande molto elastiche. Il rivestimento con lozione all'aloe offre una protezione efficace contro le irritazioni, rendendolo ideale per la pelle delicata dei più piccoli. Un'opzione monouso pratica e affidabile per i genitori attenti al benessere dei loro bambini. Puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione. Numero 1. I Pampers Sole e Luna Mini sono pannolini di taglia 2, ideali per bambini con peso tra i 3 e i 6 kg. Sono progettati per un uso monouso e si distinguono per la loro straordinaria assorbenza, rendendoli perfetti anche per l'uso notturno. Le orecchiette elastiche di chiusura offrono una vestibilità comoda e sicura, mentre la lozione lenitiva all'aloe aggiunge un ulteriore strato di comfort per la pelle delicata del bambino. Pampers Sole e Luna Mini combinano praticità e protezione in un unico prodotto. Trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video. Ciao! 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 Grazie a tutti.